Solo al Conad Superstore il 30 e il 31 ottobre c'è la Festa del Pesce, più di 30 prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcune offerte. Moscardini a 6,90 euro al chilo, vongole veraci a 9,90 euro al chilo, spigole da 3-400 grammi a 5,99 euro al chilo, tonno fresco a 6,90 euro al chilo. Ti aspettiamo a Cava dei Tirreni nei pressi dell'uscita autostradale. Ora è ufficiale. Il tunnel del sottovia veicolare, inaugurato poco più di un mese fa, sarà intitolato Aguerino Amato, imprenditore cavese del settore del calcestruzzo ed indimenticabile presidente della Cavese Calcio nei leggendari anni Ottanta. Periodo d'oro degli Aquilotti per i prestigiosi successi ottenuti nel campionato di Serie B, sfiorando addirittura la massima serie. Infatti, con la delibera di giunta dello scorso 24 ottobre, si è chiuso l'iter burocratico, avviato già da diverse settimane, e culminato con il voto favorevole della commissione toponomastica il 16 ottobre scorso. Aguerino Amato, nato a Passiano l'8 settembre del 1926, ha lasciato il segno nella storia della città e del territorio cavese, soprattutto per la sua attività di imprenditore, premessa essenziale per tutte le altre iniziative di grande rilievo che lo hanno visto protagonista. Oltre ad aver portato la Cavese alla ribalta del calcio nazionale, Don Guerino Amato, scomparso nel settembre del 2009, è ricordato per essere stato un vero e proprio self-made man, costruendo un imperio economico dal nulla e soprattutto per la sua generosità. Per questo motivo, si legge nella delibera, l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso che il suo nome sia tramandato ai posteri attraverso l'intitolazione di un'opera strutturale, di quelle che in gran numero, egli in vita, è riuscito a far nascere a beneficio di tutta la collettività. Con la stessa delibera è arrivato anche il via libera della giunta comunale all'intitolazione dell'area di parcheggio su via Antonio Adinolfi, di fronte alla Scuola Media Balzico di Santa Lucia, ad Enrico Lamberti, morto durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese. La deliberazione è stata ora trasmessa al prefetto di Salerno per il rilascio delle necessarie autorizzazioni prima di procedere all'organizzazione delle cerimonie pubbliche. Intanto, a fine novembre, molto probabilmente domenica 24, la villetta comunale della frazione di Santa Lucia, che sarà dotata di giostrine per i bambini diversamente abili, sarà intitolata al compianto Mario Pannullo, ex assessore del comune di Cava dei Tirreni, molto attivo nel sociale, prematuramente scomparso nel settembre 2015.